Regione Lombardia ha investito 11,5 milioni di euro per riqualificare 29 stazioni sulle linee Milano-Asso e Saronno-Como. Oggi gli assessori Terzi e Lucente sono impegnati in un sopralluogo in quattro di queste stazioni, Seveso, Arosio, Lambrugo e Canzo. Assessore Terzi, si vedono concretamente i risultati dell'investimento di Regione Lombardia? Sì, questo è un progetto, l'intervento sulle 29 stazioni, che appunto sfiora i 12 milioni di euro di intervento totale, quella alle mie spalle vale 300 mila euro invece come intervento. Dicevo, è un progetto che come Regione Lombardia abbiamo ritenuto di condividere da subito con Ferrovie Nord, molto importante anche per il rapporto con i territori, evidentemente, riqualificare le stazioni, dare loro anche un aspetto esteriore, oltre che dal punto di vista di quella che è l'infrastruttura in senso stretto. Bello, molto confortevole per i nostri utenti, è elemento su cui abbiamo deciso di investire tanto e devo dire convintamente. All'interno quindi vedrete una stazione non solo più bella, non solo appunto, dicevo, più confortevole, ma anche più sicura. C'è anche in questa stazione, come pressoché tutte le stazioni di FN, un sistema per un contatto immediato per la sicurezza, non solo per le informazioni relative ai servizi, quindi al servizio treno, al servizio ferroviario, ma anche per un intervento sanitario d'emergenza, ma anche per un intervento legato proprio al contatto con le forze dell'ordine, nel caso fosse necessario. Quindi veramente un approccio molto a 360 gradi, che ha come obiettivo quello di riconsegnare ai territori degli spazi importanti, molto utilizzati, di renderli belli, ma anche più sicuri. Assessore Lucente, l'investimento nelle stazioni procede di pari passo con l'investimento per il nuovo materiale rotabile. Sì, oggi vediamo delle stazioni finite su 12 milioni di investimento, 29 stazioni, 8 già consegnate, è un buon segnale a livello infrastrutturale che consente anche di rendere un buon servizio con il servizio rotabile, come giustamente diceva lei. E i nuovi treni messi su nuove stazioni forniranno un servizio, anche un comfort migliore ai cittadini. Quindi ottimo servizio sia infrastrutturale che anche di servizio rotabile, che consente anche ai cittadini di avere anche migliore sicurezza, perché abbiamo un sistema anche di controllo sia sui treni che di videosorveglianza interno, ma anche di aiuto con SOS e chiamate anche per la Croce Rosse, servizio sanitario anche nelle stazioni. Stazioni e treni, gli investimenti di regione sono quindi sempre più concreti e tangibili? Ma è una scommessa. Noi da qui al 2025 abbiamo investito tanto, vogliamo dare ai cittadini lombardi un servizio che sempre sia efficace ed efficiente, come dico sempre, e ricordiamoci che comunque anche gli aiuti che arrivano sono pochi e quello che stiamo facendo lo stiamo facendo come regione Lombardia. Questo è un lavoro a cui personalmente tengo molto perché si tratta anche di, con la ristrutturazione delle stazioni, di dare un'accoglienza ai nostri viaggiatori molto più così confortevole e quant'altro. Rientra nei finanziamenti di regione Lombardia 29 stazioni, 9-10 già fatte e nei prossimi mesi arriveremo al completamento. Nella speranza, ma di questa cosa sia con l'assessore Terzi che l'assessore Lucenti, se ne è già parlato, di poter continuare anche nel futuro per arrivare ad un completamento di tutte le stazioni. Questa è una stazione fulgro e centro di tutta la Brianza, almeno dell'Ovest e sicuramente questo investimento di oltre 300 mila euro è determinante perché riesce ed è riuscita a mettere in sicurezza tutta un'area abbandonata da anni ma con il buon rapporto, ottimo rapporto tra l'amministrazione e la regione siamo riusciti finalmente ad avere una stazione degna di nota per quello che è questo snodo importante per l'asse Asso Milano. Sicuramente è un intervento molto importante per noi la stazione è un luogo veramente strategico e soprattutto la Ferrovia Nord è una linea strategica perché collega il centro di Milano quello che sono tutti i nostri territori e quindi un'opportunità per noi vedere che la regione Lombardia e la Ferrovia Nord si mettono a disposizione per riqualificare quello che è il punto d'arrivo della Ferrovia Nord Milano perché diciamo noi siamo il capolinea noi con la stazione di Canzo Asso è sicuramente un intervento che riqualifica e sicuramente dà lustro a quello che è il nostro territorio e soprattutto il nostro paese quindi ringraziamo veramente la Ferrovia Nord e soprattutto la regione Lombardia per l'intervento che hanno portato a termine.